carissimi fan ebbene sì è arrivato il momento della puntata speciale questa volta non per i golden ma per gli os abbiamo davanti a voi una lista grazie letterboxd per averci fatto questa lista grazie per aver prodotto questo podcast noi vi diciamo che questa prima per la per una prima volta adesso non è che da qui in poi sarà sempre così però per le puntate migliorate migliori speciale per la magia del cinema raccontato in questo podcast c'è anche il video di questa andate su youtube guardate su youtube a guardarvi tutto il video perché siamo belli e oltre siamo belli sì assolutamente dopo questa introduzione facciamo raccontiamo un minima brevemente di cosa tratterà questa puntata perché andiamo facile si parla degli oscar quando sono gli oscar stanotte quindi voi alle due ma non le due in cui uscito questo podcast ma no nella 12 ore esatte su la rai per la prima volta sarà facilissimo da guardare non dobbiamo fare vpn dobbiamo guardare castelnuovo io finché non lo vedo non ci credo però in teoria su la rai tutti se pagate il canone ne vediamo di cosa parliamo sarà difficile parlare di questi oscar perché un sacco di film ne abbiamo già riparlato e quindi per la maggior parte di quei film e anche qualche puntata qualche puntata perché ci hanno fatto schifo e proprio per questo beh se abbiamo fatto la puntata era per quella no assolutamente quindi cosa faremo in questa puntata speciale parleremo un po' meno quasi niente dei film che abbia di cui abbiamo già parlato perché sono film di cui siete di parare ovunque si era parlato si era parlato e basta se per caso non avesse sentito parlare potete andare a recuperare la puntata speciale dei golden glow che è uscito un mese fat 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 anche ad inizio gennaio anche due e quindi ecco inizieremo a parlare sì della nostra top ten di questo film che è stato difficile da fare questa volta infatti questa volta abbiamo deciso di non farla singola come unicum non è la top ten degli hateful è la top ten sua e la top ten mia esatto e l'abbiamo scritte su un foglietto perché vedete vedere vedendo è una cosa molto infantile ma divertente le leggeremo invertite invertite quindi io do la mia top ten a questo scambio arriere e lui non le abbiamo viste non le abbiamo viste volevo sbirciare mi sa che sono d'accordo sui primi e poi sul primo e l'ultimo gli altri no e basta ottimo e beh allora mi direi io direi che cominciamo con la top ten vai podcast hateful che poi in realtà sarebbe hateful che oggi è visto in più modi ebbene sì iniziamo da questa top ten io direi di parlare di questi film che se voleste scaricare questa tabella sono in fondo ed è best picture best picture iniziamo da american fiction premio più ambito no sì io direi che ne parliamo con la top ten no io prima ne parlerei e poi direi questo 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 ok va bene ci sta certo quindi parliamo di american fiction che è l'ordine alfabetico e l'ordine di esatto l'ordine della top ten lo diremo dopo american fiction film di cui non abbiamo ancora mai mai parlato su questo podcast e di cui ti lascio cominciare io voglio parlare prego perché secondo me è un film che lo vedrete poi dopo nella mia top ten è molto 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 in alto ma non dirlo già lo saprà dopo lo sapremo dopo a me è piaciuto è una storia che non lo so racconta delle problematiche american fiction è un film che vuole parlare di tante cose lo fa per un certo momento e poi si perde in una storia della famiglia che non ha capito che cosa c'entra con la trama secondo me non è assolutamente questo perché è un film che secondo me è molto ben riuscito diciamo di cosa parla non abbiamo mai parlato diciamo questo e poi facciamo il mio ragionamento prego la storia parla di uno scrittore nero perché in realtà è parte della storia il fatto che lo sia jeffrey wright che si è conoscito per bernardy westward esatto bernard bellissimo e cosa succede? succede che questo bernard è uno scrittore con un po' un blocco dello scrittore no no in realtà scrive tanto ma non vende perché non è quello che la gente vuole non vende quanto questa altra scrittrice nera che invece scrive nel linguaggio del ghetto se potrebbe dire e quindi cosa succede? lei vende molto di più e il suo editore gli dice bomber l'editore di lui l'editore di jeffrey wright gli dice bomber tu devi scrivere come lei e lui dice ma è proprio bullshit devi scrivere storia del ghetto lei scrive storia del ghetto per dei bianchi che vogliono sentirsi bravi e non razzisti esatto e lui dice ma bomber ma questo è proprio tutto una presa in giro sotto quello che è lo storia è vera è tutto costruito per avere questa immagine dei ghetti e quindi lui cosa fa? prende in mano e decide di scrivere un romanzo scritto con quello stile che lui detesta che lui detesta usando uno pseudonimo quindi non dicendo che è lui che adesso mi ricordo non mi ricordo anche come si chiama lui ma ecco e cosa succede? beh quel libro diventa best seller tutti elogiono addirittura la sua compagna lo compra perché le piace un botto tra l'altro il libro si chiama Fuck esatto si può dire si chiama Fuck e non lo possiamo non dobbiamo neanche mi parlare perché è proprio Fuck si chiama che è anche lì e guarda i film lo fa apposta per prendere in giro i pubblici i come si dice? i publicists i publicists no case elettrici eh case elettrici ecco e niente quindi secondo me è un film veramente geniale ma la mia il mio ragione non sono anche io in realtà preso per il culo da lui sono bianco e dico cavoli questa storia in realtà mi chiedo anche se tutto questo in realtà non è la presa per il culo direttamente che stanno in questo film in realtà prende per il culo anche me beh c'è nel discorso nel film c'è questo discorso sì allora la cosa che quando si parla di appunto questo discorso di neri e bianchi quello che si vende quello che si vuole è vero cioè mi sembra venuto molto bene bene e cioè mi sembra come se fosse abbastanza forte perché tutto questo political correct questo walk che si vende adesso e che fa un sacco di successo sempre e comunque ed è un po' la prima volta che si va un po' contro e mi è piaciuto perché da un lato è vero e è venduto bene il resto della storia non ho capito cosa c'entra cioè nel senso nella mia testa mi sono detto ma vogliono far vedere che lui ha problemi normali non ha problemi del dietro cioè non ho capito nel contesto perché lui c'ha dal nulla le muore la sorella e la mamma è malata e il fratello è un tossico e se ne va e succede di tutto a sto cristo che deve essere una vacanza in una settimana a Chicago dalla famiglia e in mi sono chiesto cosa c'entrava con tutto il resto se il film se fosse concentrato su quell'argomento lì però in realtà è un argomento che si dilata su tanti momenti sia che influenza poi la sua vita e ma stanti momenti che poi vengono interrotti da questa crisi familiare e non capisco questa crisi familiare come come si incastra con tutto il resto non so potrebbe essere appunto il fatto che mi interrompeva il discorso e io ero a dire ma quando continua a parlare del suo libro e di sta cosa e non poi tipo ma c'è ok la mamma figlia fra la sorella è morta l'ho conosciuta 5 minuti però il suo problema di questa cosa che deve scrivere un film finto per aver successo sì un libro finto per aver successo va in concomitanza al fatto che succedono tante altre cose eh sì ma c'è cosa mi dà di più non so secondo me ti racconta che non è non c'è solo quel problema lì non lo so poi un'altra cosa scusa per finire poi smettiamo di parlare di questo film è quella roba che dici te che cioè non veniamo presi in giro noi guardando il film nel film quando lui a un certo punto diventa un critico in una giuria di libri e c'è il suo libro e c'è anche quest'altra scrittrice nera di cui parlavamo prima di grande successo e discutono tra di loro e lui gli dice ma te non ti vergogna scrivere libri così proprio solo per essere comprati e gli dice ma scusa mi è avuto un problema tuo non è un problema di noi neri non è neanche un problema di tuoi bianchi è un problema tuo di come te ti vedi come ti vuoi vendere quindi di per sé non è che noi veniamo presi in giro è un po' come tu vedi la situazione cioè punti di vista tu da bianco vedi ti senti colpa o meno anche sì ma c'è nel senso è ovvio che c'è gente come lui che ha la bella vita e va alle varie e poi c'è gente che vive nel ghetto non è che c'è una realtà e basta cioè adesso io l'ho presa così quella scena poi magari appunto il mio punto di vista e basta ecco io finirei con l'esclusione direi che ci siamo non mi ha fatto entusiasmare lui è piaciuto tanto non è piaciuto molto del secondo film non parleremo ne abbiamo già parlato perché è anatomia di una caduta ne abbiamo già parlato nell'altro podcast c'è che ci sono i 14 secondi c'è di tutto c'è la recensione scritta c'è di tutto beh ci sarà ci sarà Barbie anche ne abbiamo parlato nella puntata dei Golden Globes quindi nuovamente non ne parleremo e qui invece parliamo di Edoardo io l'ho già parlato esatto lui l'aveva già visto quindi la puntata dei Golden Globes aveva già accennato qualcosa apriamo un dialogo adesso che l'ho visto anch'io e secondo me è un film incredibile non sono d'accordo la storia sì la dinamica come si raccontava nella puntata dei Golden Globes questa dinamica di una scuola privata di persone molto viziate ricche che vogliono fare quello che vogliono arriva Natale e quasi tutti i ragazzi tornano a casa della famiglia tranne un gruppetto di ragazzi che hanno varie problematiche in famiglia prima sono cinque prima sono cinque poi uno è ricco e decide di pagare l'aereo per andare a qualche padre arriva il padre con l'elicottero a prenderli e li porta tutti in vacanze rimane uno uno spocchione spocchioso come si dice strafottente semplicemente esattamente e succede che appunto questo insegnante che è stato sorteggiato per curare questi ragazzi durante Natale perché non ha una famiglia ed è l'unico un po' sfigato anche tra gli insegnanti il più severo il più severo decide che aveva l'intenzione di far studiare ragazzi tutte le vacanze anche se erano vacanze decide di esaudire il desiderio di questo ragazzo e portarlo a Boston che bello e a Boston poi succedono tante cose Boston non c'è più altra trama il resto è un po' sono i personaggi che si conoscono sono i personaggi che si conoscono c'è tanta profondità nel ragazzo quell'ingenuità quella stupidità del ragazzo in realtà si rivela essere difesa autodifesa su quello che è la sua situazione familiare veramente un film delicato bello un film si potrebbe dire natalizio ma drammatico emotivamente affascinante che vincerà almeno un Oscar minimo vincerà 100% magari vincerà di sicuro miglior attrice non protagonista se lo metto qua The Vine Joe Rambo The Vine Joe Rambo che ha già vinto di tutto e di sicuro 100% si porta a casa anche questo meritatissimo lei che fa la cuoca della mensa che rimane anche a lei tutte le vacanze a scuola altro vorrei vincesse il miglior attore dubito a me piacerebbe però ma vincerà l'altro insomma sappiamo tutti di chi stiamo parlando di questo film si potrebbe parlare tanto però l'avevi già parlato tu l'avevo già parlato un po' io continuiamo Killer of the Flower Moon ne abbiamo già parlato maestro ne abbiamo già parlato veramente ne abbiamo già parlato beh ma certo sono tutti già nominati ok è fortuna perché non avrei voglia di riparlarne non me lo ricordo più Oppenheimer oltre ad averne già parlato abbiamo anche già fatto una puntata dedicata 14 minuti solo su Oppenheimer più di sicuro abbiamo fatto la recensione in 40 secondi e anche la recensione sul blog non so se in 40 secondi l'abbiamo fatta ma sul blog c'è ed è bellissimo andate a leggere abbiamo past lives che dobbiamo parlarne io ne ho già parlato perché tu ne ho parlato invece che questa volta l'avevo recuperato anche io faccio parlare un po' lui adesso allora ad Ariele ad Ariele era piaciuto estremamente tanto mi sembra molto toccante molto toccante molto bello non me lo ricordo molto bene adesso anche se dovrei difenderlo non so se riesco ma ci provo un mini riassunto di cosa ma a me non è che di difendere non è che a me hanno fatto schifo assolutamente vedo già che metti le mani avanti metto le mani avanti perché da come appunto da come avevi parlato nella portata speciale di Golden mi aspettavo un film incredibile cioè avevo delle aspettative altissime probabilmente quello che poi mi ha asciugato un po' in piacere del film è un film molto bello che effettivamente ti fa vedere il tempo che passa la vita che passa la vita la vita che passa con tantissimi tantissime problematiche tantissime cose che influenzano la vita perché non sono neanche scelte non sono neanche cose che sono cose che sono la vita che va avanti sono cose che succedono per chi non avesse scelto la puntata facciamo un mini dell'assunto due bambini che giocano in Corea Corea del Sud poi lasso di tempo lei a New York a studiare lui rimane in Corea si iscrivono si iscrivono a caso iniziano a sentirsi su Skype si instaura questa relazione d'amicizia perché l'unica cosa che può crearsi è l'amicizia perché lei è quasi sposata no 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 all'inizio no all'inizio vuole nascere come relazione vera ok solo che però è distanzissima cioè dall'altra parte del mondo lui è sempre venuto ad andare là non ha mai potuto e poi penso che si stacchi un po' perché non c'è più insomma a un certo punto lei decide di smettere e poi si risente lui la va a trovare a un certo punto una volta che c'è già il marito e c'è tutta questa difficoltà anche da parte del marito non ad accettare questa cosa ma a rendersi conto a me piace come si vede il marito non me l'aspettavo cioè è così sana come se vuoi situazione no nel senso il marito ama questa donna lei ama lui però in questo ragazzo trova tutto quello che lui non è o tutto quello che sono le sue radici che il marito americano non ha tutto quello che lui non può essere per lei esatto ed è no adesso che parliamo mi vengono i brividi perché è proprio cioè no ma è proprio bella storia di vita veramente vera vera possibilità non è niente di straordinario come dice lui però è proprio come tocca come toccante trovo è una cosa che voglio dire sul marito no non sul marito sul ragazzo quando viene e come si sente di troppo lui viene solo per salutarlo per essere lì non mi ricordo per lavoro se non mi sbaglio lui va lì o solo per vacanza non mi ricordo più ma e si sente proprio entrambi sia lui che il marito si sentono di troppo quando sono con lei lei non può essere non lo so è proprio no è veramente bello grazie apprezzo guardatelo cambiamo la top ten scherzo magari parliamo mancano due di poor things non ci ha parlato non ci ha parlato e quindi parliamo dell'ultimo di questi best picture prima di darvi la nostra top ten singola la zona dell'interesse la zona dell'interesse film introvabile introvabile fino ai golden adesso finalmente siamo riusciti a trovarlo è uscito al cinema e siamo andati a vederlo che bello che bello un film soddisfacente interessante soddisfacente un film forte fortissimo un film delicato posso parlare? prego perfetto un film che inizia con uno schermo nero per vari non vorrei dire minuti ma abbastanza tanti secondi secondo me sono diventati pure minuti secondo me sono diventati minuti dove è un solo rumore solo podcast se vuoi è un lavoro non so se è un podcast che ascolterei è un lavoro di sound design incredibile infatti non so è rovinato in sound si ma non vince non vince ma guarda chi c'è che fastidio cosa è che non vingerà? eh operare certo che palle non ne posso più di questo se lo merita tu io guarda me lo scrivo solo vintere buona parte del film si basa su quello non buona tutto il film perché ha anche un bellissimo film visivo si ma diciamo che 95% del film no 85% no 80% 95% del film c'hai suoni sottofondo no non hai mai silenzio no ma non c'è mai un momento in cui la gente parla a casa tipo adesso che c'è silenzio e c'è questo mai perché c'è o gente che urla o camini che vanno o spari o perché raccontiamo un attimo una storia è vero vai è praticamente la storia di questo il comandante il comandante di Auschwitz il campo di concentramento che vive con la famiglia la moglie di quattro figli quattro figli attaccati ad Auschwitz basta perché il loro giardino confina proprio con le mura di Auschwitz quindi senti tutto vedi i camini altri vedi i camini vedi i camini la cosa è che stanno male però la cosa incredibile è che non vedi mai dentro però sarà sia quello che noi conosciamo da tanti altri film e l'immagine che abbiamo sia di 2.3 però è proprio bello però non ce lo fa vedere mai è come quando c'è un film dove c'è un cattivo un mostro tipo un horror un mostro qualcosa in realtà i migliori film sono quando non vedrai mai la faccia del cattivo e quando vedi il cattivo diciamo sì esatto è vero mentre qui è incredibile è bellissimo l'inizio una scena iniziale quando vedi per la prima volta il comandante che vedi solo in casa poi vedi il giardino poi lui esce tutta la famiglia fuori il suo compleanno si scopre e gli regalano una canoa e lui è contentissimo le ringrazia e mai vedi i muri mai vedi niente finché a un certo punto te vedi solo la canoa la famiglia e lui a un certo punto dal nulla la telecamera gira per vedere la sua reazione che è contento e vedi i muri e vedi tutto quello che ti ha dato il muro e loro contenti che il suo compleanno che e poi lì cominciano che vivono una vita ed è incredibile e ultima cosa che voglio dire il personale a un certo punto arriva la madre della moglie in vacanza a vedere come sta la figlia si è trasferita in questa bella questa bella casa e la mamma che rappresenta noi di per sé noi che siamo lì in visita come la mamma ed è scioccata cioè è fiera della figlia inizialmente finché si sveglia di notte perché c'è la luce in camera dovrebbe essere buio ma c'è la luce dei camini in camera lei che si tappa la bocca per non respirare e poi scappa cioè va via non saluta neanche la figlia e va via incredibile ho trovato proprio un film delicato e forte allo stesso momento è pazzesco bom vi direi che abbiamo detto tutto apriamoci le buste apri prima tu e poi apri io apri la busta della top ten di Edoardo Nerboni vado piano ah inizio dal basso inizio dal basso ok vai decimo posto maestro sono d'accordo un film un po' debole insomma tra tutti quelli che ci sono nono posto tranquillo poi veloce rivoltarla quinto posto zona dell'interesse va rivoltata non so a me piace quarto posto anatomia di una caduta e si va che qua scusa mi volevo giustificare a me mi era piaciuto un sacco probabilmente tu l'avrei messo molto più in basso a me mi è piaciuto molto però non abbiamo già parlato non bisogna non bisogna giustificare ok scusate scusate quarto posto anatomia di una caduta dicevamo podio per American Fiction che a me al terzo posto piaceva secondo posto holdovers e primo posto tourthings questi ultimi i primi due e gli ultimi tre sono completamente d'accordo in mezzo io ho un po' mischiato ma vediamo insomma guardiamo quindi la top ten di Arriele oh come si apre oh 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 ha fatto un libro non posso fare ok così allora all'ultimo posto abbiamo maestro beh siamo d'accordo aspetta che metto check check penultimo posto e anche qui siamo d'accordo ottavo posto Barney e si festeggia siamo d'accordo settimo posto American Fiction qui non siamo d'accordo però comprensibile al sesto posto abbiamo anatomia di una caduta eh sì andava lì andava lì quinto killer of the flower moon top 5 poi abbiamo paslice al quarto quindi sì sì alla fine in quelli centrali ci siamo un po' alternati certo perché al terzo al podio abbiamo Zono Vinterest che il lavoro sul suono ha decisamente fatto una parte importante e poi il dover secondo è Poor Things che quando entra nel cuore entra nel cuore assolutamente quindi noi speriamo nella vittoria altamente improbabile di Poor Things perché altamente improbabile? perché Oppenheimer vince la migliore fin io ve lo dico oggi 10 di marzo sì ma se tu tu devi manifestare per quello che comunque no io voglio che vince Poor Things ma quest'anno quest'anno questa notte vince Oppenheimer per me bisognerebbe fare proprio come me lo dico tutta la tristezza del mondo come Sanremo tutti pensavano avrebbe vinto Joliet no io non ho mai pensato a vincere Joliet perché tu perché io io credo nella musica e nel cinema nel cinema non credo così tanto perché ha vinto tutto Oppenheimer vincerà il miglior attore vincerà il miglior regia vincerà il miglior e quindi vincerà anche il miglior film io ve lo dico qua poi spero di aver torto perché Poor Things merita mille volte di più ebbene sì adesso vi parliamo invece un po' di tutte quelle piccole un po' più piccole categorie un po' più piccole categorie che non sono i best picture che volevate ascoltare i nostri pareri ma proprio un po' delle altre categorie iniziando da un film da un film di cui abbiamo parlato che è nominato sia come actress in a leading role sia come supporting role supporting role quindi Jerry Foster e Annette Bening Bening o Bening Bening dipende dalla pronuncia e quindi parliamo un attimo ve lo ho cominciato io? sì perché ti è piaciuto meno di me sì parla di Niad la Shura che la Bening dieci anni fa più o meno se non mi ricordo male 2013 ha nuotato all'età di 63 anni sì ha nuotato da Cuba alla Florida due giorni e mezzo nell'acqua a nuotare di giorno e di notte senza mai mangiava e beveva imboccata da un tubo che aveva sulla marca inizio col dire affascinante la storia sì non mi piacciono le biografie ma questo già si sapeva Dariele i primi dieci minuti e gli ultimi dieci minuti molto interessanti ehi perché? perché ci sono le vere interviste di lei e le vere scelte di lei però poi tutto il resto in mezzo che palle io 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 ti racconta sempre le stesse cose ti racconta sempre le stesse cose ma c'è veramente c'è tu per una persona vera o guarda un documentario o non ti viene che palle ma è un vero è loioso c'è un nostro comune amico conoscente che segue questo podcast spero che tu sappia che stiamo parlando di te che ha scritto su Letterbox che è un film fatto da un dodicenne ed è mega vero perché racconta le cose mega blande purtroppo non ricordo esattamente cosa dice racconta la storia che deve raccontare anche loro due ma è tutto mega parlano proprio mega parlano finto quando sono le decente loro due tra lei Jordi Foster e Niyad che è Kenneth Bening che Jordi Foster fa una solennatrice proprio finto quello che dicono sono proprio discorsi finti non sono discorsi veri è proprio un film costruito finto un documentario mille mila volte meglio e io odio il documentario è un altro linguaggio è un altro linguaggio allora fai un altro linguaggio lo so cioè è la stessa roba di di Oppenheimer però in realtà questa volta funziona no perché non dura e trambi non funzionano secondo me sì e perché? perché secondo me è un film che ti intrattiene e che questa è sempre una cosa che secondo me è importante per un film ti racconta una storia che io non conoscevo e neanche tu no certo non conoscevo assolutamente è una storia super interessante il fatto che cioè è interessante la storia ok non solamente il film il film racconta una storia però è una cosa che ti tiene attaccato perché vuoi sapere ce la farà i maggiori se si hanno fatto un film ce la farà la prima volta no ce la farà la seconda no ce la farà la terza tu sapevi a che punto no a un certo punto mi dice e ci prova e non ce la fa e ci prova e non ce la fa 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 ma è la storia ma non sono d'accordo che è la storia ma me lo vende che non me ne frega più con un c***o di quello che fa e di quello che nuota poi sì sta povera sta povera crista è delle onde sta povera crista c'è lo squalo sta povera crista c'è la medusa cuso e a un certo punto ho cercato cos'è box melusa perché non so che cazzo era cube no era box jellyfish penso qualcosa che non mi ricordo più però ma non c'è non mi interessava più poi ovviamente lei ce la fa alla fine deve uscire dall'acqua ed è tutta contenta ho messo tutti con gli occhi lucidi che era un cadavere anche se mi afferchiamo un c***o che avevo seguito il film alternata alle immagini vere eh no no che strano ultima scena perdonate il tenere di coda dopo durante il tenere di coda c'hai le vere interviste di lei ultima scena non so se hai visto loro che si abbracciano le vere e le finte la sì ma dopo ancora la Let Bening e lei che nuotano insieme ah sì sì l'ho visto ma io voglio vedere quel eh vabbè allora me ne spiegavo è assurdo parliamo un attimo degli animated parliamo degli animated real movies alcuni molto belli alcuni molto brutti elemental io l'unico che non ho visto è The Boy and Aaron che vorrei vedere guardalo mi piacerebbe perché so che mi piacerebbe beh in poco tempo è stasera in effetti Elemental personalmente quello che Elemental l'abbiamo visto insieme a Cannes Cannes film di chiusura di Cannes 2023 mi ha entusiasmato poco per essere un Pixar un po' quello che ti ha entusiasmato meno infatti l'ho detto e mi sono ricretto io direi pari merito con Nimona certo per cento per cento magari anche accenniamo due cose Elemental è un film classico Disney però senza veramente il sentimento che ci sarebbe però metto che gli ultimi cinque minuti di Elemental un po' più lucido mi è venuto Nimona sono perdite un po' le p***e e Nimona Nimona ci prova e non ci riesce non diciamo altro andiamo avanti esatto Spider-Man è Spider-Man però è bello è bello ma la pecca di non finire che senso è to be continued io non lo sapevo che era un parte 1 questo film e mi ha ormai nel 2024 poi è fighissimo poi l'altro problema che ha è che lo stile ormai è diventato è un già visto cioè nel senso è bellissimo è fighissimo è innovativo per quando era innovativo è innovativo ma ti dici esattamente cioè non mi dai altro rispetto a quello che hai già fatto prima poi è sbagliato metterlo sulla stessa linea del primo però prima ha innovato innovato come si dice mega tanto e adesso rifare la stessa cosa sperando che nessuno dica niente poi vedremo la parte 2 e poi abbiamo che bello parla di Boy and Aaron no no se vuoi dire qualcosa Boy and Aaron è bellissimo è prestissimo è proprio un classico Miyazaki che ti fa un po' male dentro e non lo so cos'altro dire noi speriamo che ne possa fare ancora 100 ne possa ma penso che onestamente penso che vincerà questo questo in realtà è anche un po' un suo sguardo sul suo passato incredibile ma poi è anche un po' come lotta tra poi una cosa che avevo detto sulle recensioni che magari mi sono un po' sbilanciato è un po' è un po' su Dante che ricordi lui fa un po' un giro dantesco magari sto esagerando però ammetto posso Google per confermare non è che scrivo c***o l'avevo cercato però parliamo del parliamo del giro Robodreams che noi in realtà speriamo vinca anche quello perché di Boy and Aaron anche se lo merita ma Robodreams non vincerà Boy and Aaron è un film incredibile è un film semplicissimo un film che tecnicamente non dico che è semplice perché non ho idea di come sia fatto i disegni sono bello però è proprio un disegni semplici minimal non parlato non parlato solo musica sono animali che camminano che vivono in una città in una città in realtà il film comincia con la solitudine di questo cagnolino che si chiama per il suo dog non mi ricordo si si chiama dog perché ogni animale anche sui campanelli è questo chicken cats cats che comanda un robot perché vuole un amico e quindi comanda un robot che monta le gambe le zante e quindi diventano mega amici però cosa succede vanno in spiaggia con gli island l'ultimo giorno perché abitano a New York Manhattan e si arrugginisce e non riesce più a muoversi esatto fa il bagno tutto felice e la sera non si riesce a pianzare lui dice aspetta vado a casa prendo la scatola degli attrezzi non è che lo dice lo capisci però percepiti tutto quello che vuole il bus prende un taxi va prende con la codina con la codina con la fevezza dei gambe torna e in realtà con i island è chiusa perché quello era l'ultimo giorno d'estate e riaprirà il 6 giugno 6 luglio quindi no sarà giugno ma deve aspettare tutto l'inverno deve aspettare tutto l'anno prova a entrare ma viene arrestato due volte è stato un botto di volte dal gorilla il gorilla era un toro era un gorilla un gorilla penso e no veramente un film incredibile e poi il robot dreams perché il robot rimane lì per mesi e mesi e mesi e cominciano alcuni che distaccano le gambe dei pirati tipo che arrivano e poi vedi un po' i sogni quello che vive questo robot stando lì anche nelle sue paure di per sé da un lato perché ha paura di essere dimenticato ha paura di essere sostituito ha paura di rimanere per sempre film veramente prezioso e ancora una volta è la semplicità è sempre sempre e poi se vuoi sulla questione che poi è un'altra parola finale bellissimo molto lacrime molto lacrime ma dico è una cosa che poi parleremo anche dopo quando parleremo dei cortometraggi animati che a differenza di tutti quelli che sono i film di cui siamo abituati noi che hanno uno stile molto bello molto evoluto per esempio dei film della Disney molto digitale questo è un film che nella semplicità trova proprio il suo posto proprio la bellezza la purezza di un film del genere perché è proprio anche un argomento molto puro un argomento di amicizia di come le amicizie passano e vanno e cambiano tra questi qua direi che Robot Dreams e Spider-Man sono i due che hanno veramente uno stile particolare è vero che Boy and Aaron è un Miyazaki ma i Miyazaki sono un po' tutti loro puriti esatto andiamo avanti con i film internazionali film internazionali di cui abbiamo già un po' parlato abbiamo già parlato di Perfect Days no scusa abbiamo parlato di Zone of Interest esatto e basta pur se io capitano l'avevo già nominato io capitano l'avevo già nominato sì dei gol nominato io capitano quindi anche io capitano non ne parleremo tanto non vogliamo parlarne Perfect Days film incredibile Perfect Days film visto a Venezia no a Cannes Cannes è stata un'annata incredibile due film per il momento sono stati nominati beh però non abbiamo visto cento no ma neanche vabbè Venezia l'abbiamo visto moltissimo Perfect Days anche lì cacchio la semplicità la semplicità qua si vive la vita e i giorni di questo cinquantenne giapponese che pulisce i gabinetti e trova e finisci l'acrime non è possibile la semplicità la vita lo scopo della sua vita e la sua vita e l'amore e la difficoltà e la difficoltà e la difficoltà di essere padre la difficoltà sì perché un certo film arriva la figlia sì ma non c'è da niente essere padre c'è tanto anche quello lui che cerca di essere presente quando ormai non è più presente l'essere padre c'è anche vivere il momento cioè insegna a lei il vivere il momento lei dice sì ma quando ci vedremo al prossimo video dice ti preoccupa ma è vivere il momento adesso il futuro è il futuro io ho letto anche una difficoltà lui legge io leggo sì le righe stanno fatto sta biglietti nei gabinetti no è bello fa piangere e onestamente fa anche arrabbiare perché quando finisci ti dice perché non posso godermi la vita come quest'uomo essere così semplice così contento con così poco perché avere le ambizioni fa ragionare fa riflettere andate a vedere poi oltretutto da vedere a canna ancora di più perché sei nel posto più frenetico e ricco e s***o orco mi sbilancio perfect days la metafora di quello che can dovrebbe essere io vorrei vincerse perfect days poi maggior link a zone of interest sul solito post no tu l'hai poi finito io non l'ho finito perfetto ariela era stanco perché era l'ultimo giorno di venezia era l'ultimo giorno di venezia e durava due ore dura tuttora due ore e mezza non è che si è accorciato eri anche tu in prima fila eravamo tutti in prima fila due ore e mezza impegnative toste ma toste non io direi i primi dieci minuti tostissimi quello c'è l'incidente in aereo però incredibile in prima fila ti caderemo qui l'abbiamo già sperimentato col mass shooting oh è vero 22 giulai anche quello eravamo stessa sala stessa sala prima fila e qua invece abbiamo visto uno schianto di un aereo in prima fila alle 11 di sera vedete è tardissimo e quindi giustamente io vi sono mare e mezza sono andato via vabbè la storia è di questo avevamo già fatto altri film si negli anni 70 la squadra di rugby che cade nelle ande con l'aereo e e lo sopravvivere si mangiano e si mangiano a vicenda con i morti o che un chi muore piccolo dettaglio abbiamo visto durante il film di chiusura era il film di chiusura di venezia e in sala c'erano i sopravvissuti che in realtà l'abbiamo scoperto alla fine in realtà avuto non l'avevo capita esattamente sta cosa quando è finito il film e hanno applaudito e c'erano lì i supersiti mi bro hai pianto no beh avevo pianto prima no perché nel film dicono c'è il regista e poi i sopravvissuti del volo non l'avevo capita fatto sta questo film qua vale solo per la scena dello schianto non è vero no vabbè anche il resto del film c'erano dello schianto era incredibile penso di aver mai visto la scena dillo schianto fatta bene veramente fatta bene anche perché vedono tutte le ossa spezzarsi è un film lo trovate su netflix andate per la vedere perché è un film netflix prossimo lascio a parlare edoardo prossimo e ultimo di questa categoria è the teacher's lounge ovvero la docenti una storia che è una storia che fa ragionare nella mia testa la mia testa ignorante fa un paragone con di velle che avevo visto anni e anni fa non è un film ma di sicuro l'hai visto ah di velle ah ok in realtà l'unica cosa che ha in comune è la dinamica scolastica e la dinamica insegnante alunni però vabbè mi ricordava quello e anche il fatto che erano due film in tedesco ma la storia parla di questa scuola che ha dei problemi di furti c'è qualcuno che ruba cosa succede questa insegnante decide di lasciare sulla sedia della teacher's lounge la sua giacca con il borsello con dei soldi dentro e lascia il computer così aperto con la videocamera accesa che filma questo si vede finisce la sua lezione va e si vede un braccio con una camicetta riconoscibile che prende i soldi eccetera va da questa che era tipo la segretaria lei dice ciccia devi dirmi qualcosa e lei dice no perché mi hai rubato i soldi e lei cosa dici non è vero non è vero non è vero facciamo che mi rita i soldi e la chiudiamo qui lei no non sono stata io l'insegnante va immediatamente dalla direttrice e dice direttrice c'è questa cosa e lei dice ma hai delle prove e lei dice si guarda il video chiamo subito la ladra chiama la ladra la ladra chiange non è vero non sono stata io viene sospesa la ladra allora cosa hai veduto il film questo è solo l'inizio viene sospesa non è forti no ehi il film è sospesa la ladra e la ladra che ha anche un bambino in una classe dove l'insegnante insegna il bambino inizia ad essere bullizzato ci sono cause legali alla fine non vi dico che cosa perché è spoiler ma è un film incredibile ma è veramente bellissimo bellissimo mi è piaciuto proprio tanto quindi c'è altro di questo film non lo so in realtà è una dinamica che può succedere in qualsiasi scuola in qualsiasi dinamica e tu parti da una cosa che è semplicissima pensi di fare del bene in realtà alla fine fai del male fai molto peggio tutto ti si ritorce contro ok capito e poi arrivano dinamiche che tu ormai non puoi più controllare e ormai è troppo tardi per dire scusa mi sembra interessante per 5 euro che l'ha rubato poi non è che 5 euro mazza perché in realtà in Germania con 5 euro probabilmente un caffetto non bevi facciamo ora un piccolo accenno su quelli che sono i documentari che non ho visto tanti io ne ho visti due io ne ho visto uno perfetto uno abbiamo in comune l'altro è quello che vincerà ne parlerò solo io perfetto cominciamo con in comune o cominciamo con quello che vince cominciamo con The Eternal Memory The Eternal Memory io unicamente non lo ricordo poco ma è un film sull'Alzheimer parla dell'Alzheimer e anche un po' della politica del Cile è un mix è un mix lui era un giornalista che ha fatto un sacco per politica per raccontare le rivolte per raccontare le rivolte e adesso c'è l'Alzheimer non si ricorda più un c***o questo perello e quindi la moglie documenta occuparsi di lui che è malato molto toccante quei punti lì perché fa vedere dei momenti dove lui è più lucido e dei momenti dove lui è terrificante altri momenti in cui parla del Cile che è solo un po' una solfina per cui lo cambiano l'entusiasmo un po' una solfina una solfa si può dire? si può dire ma in che senso una solfa? eh lo lo so perché non ti interessa perché non ti interessa perché non ti interessa proprio un c***o mi interessa proprio un c***o mamma mia potrei bruciare domani oh no il c***o no il mondo ero il Cile ci arriviamo bene e niente se si fosse soffermato solo sull'Alzheimer tipo un altro film sull'Alzheimer che era domenica The Father no un documentario Dick Johnson is dead mamma mia ecco quel film quello mi ha fatto piangere tantissimo bello questo è un po' la sua versione politica se vogliamo ma in realtà non lo so e a me nel senso cioè in realtà quando guardo un film del genere io non penso alla politica io penso se io mi prendessi l'Alzheimer voglio che mi uccida un aereo sono d'accordo immediatamente cioè io di essere un peso così per chi ma non lo sai di esserlo però senti che qualcosa non funziona e piangi e stai male quello fa vedere suo marito che piange dice ma tu che sei riportami a casa dove sono che è riportami dai miei amici quelle sono le parti che mi sono piaciute è quando ti rovina un po' il ritmo con le rivolte in un cine dove sono i miei libri che mi ha portato i miei libri stiamo dicendo la stessa cosa no perché in realtà tutto quello che è lui lui essendo giornalista avendo raccontato quelle cose e anche le rivoluzioni e far vedere la rivoluzione a far vedere il suo periodo è come se la rivoluzione eccetera è il suo presente l'unico presente che può aver vissuto tutto quello che è quello che per lui è cioè quello che per noi vediamo nel documentario il presente nostro in realtà è un tempo che per lui non esiste lui quello che è è lui nel passato cioè vogliono farci vedere cosa ha fatto lui chi è lui e come è diventato adesso secondo me vogliono solo non lo so è interessante io l'ho trovato interessante ok prossimo prossimo che parlerò poco probabilmente è il film che vincerà probabilmente è il film che vincerà un documentario sui primi giorni dell'attacco russo alla città di Mariupol 20 giorni a Mariupol la storia di questo giornalista che credo sia un giornalista freelance perché vende poi tutti i servizi a tutti alla CNN eccetera e noi vediamo le storie che lui racconta con la sua videocamera storie veramente cruente perché vediamo tanto crudo e poi in realtà vediamo le stesse cose che racconta quando vanno in onda e vediamo anche tutto quello che è quello che poi è andato in onda quindi noi vediamo tanto della storia e poi in realtà quello che viene messo in onda sono solo quello che interessa al al programma che lo compra vuoi di prendere il canale a far suo immagino esatto ognuno sceglie cioè lui immagino che venda non uno che da quello che ho capito vende il servizio e in realtà ero per tutto molto scettico infatti l'ho guardato solo perché probabilmente vince e ho detto che non ho voglia di vederlo in realtà l'ho trovato abbastanza interessante ovviamente proprio del giornalismo esatto cioè non ho trovato niente di esatto cioè quella roba di guerra che devi avere il coraggio di filmare alcune cose ci sono anche tanti ragionamenti introspettivi del giornalista cameraman non so che è però mi chiedo appunto qual è un po' la differenza tra essere nel adesso sembra brutto da dire ma nel posto giusto al momento giusto e quanto in realtà è fare un documentario che è la stessa domanda io ci volevo allo scorso è un po' quello che mi chiedevo sì ma si può un po' ricollegare a American Fiction rivedo qualcosa è un po' anche il vendere quello che la gente vuole tu vai in una zona di guerra per riuscire a vendere qualcosa che la gente vuole vedere però in realtà credo che a un certo punto lui faccia un un ragionamento del io in questa guerra qual è il mio lavoro come posso aiutare posso aiutare battendovi per far vedere cosa sta succedendo le atrocità che stanno vedendo sì ma comunque alla fine vende e la gente fa vedere quello che la gente vuole vedere no no questo assolutamente però lui dice appunto l'unica cosa che posso fare l'unica cosa che posso fare io è per alcuni giorni non riesco a trovare eccetera ma potrei star lì ad aiutare questi a salvarsi oppure quello che posso fare è prendere un camion scappare da lì cercare di andare su un palazzo che magari viene bombardato per riuscire a mandare il segnale e far vedere a tutto il mondo il mio scopo di questa guerra per aiutare loro è far vedere l'elettricità l'esimorale interessante ok 20 days in mariupol bom cos'è che ultima piccola parentesi che facciamo sono su quello di cui nessuno parla mai i cortometraggi i cortometraggi che in realtà sono tre categorie tre categorie tre categorie sono documentari cortometraggi cortometraggi animati e cortometraggi di live action quindi finzione tocco così cominciamo da partiamo dai documentari documentari io ne ho visti tre ma anch'io parlerei solo di uno anch'io io ho visto The Bard of Little Rock Island in Between e The Lastre Per Shop e anche io tu vorrai parlare di? io poco importa dimmi se ok io vorrei parlare di Lastre Per Shop parliamone secondo me è un film molto interessante è un film molto interessante dal punto sia è una tematica che ovviamente mi è cara e quindi probabilmente mi prende in un lato emotivo emotivo è certo però ho trovato anche una cosa assolutamente ma ho trovato una cosa veramente incredibile il lato è tecnico cioè la storia di questo ultimo da quello che dicono riparatore di strumenti di scuola così dicono chi ripara gli strumenti dei ragazzi di tutta America che suonano degli strumenti e c'è quello che suona il violino che li rimanda il violino c'è quello che li rimanda la tromba e fanno vedere in una scatola tutte le cose che tirano fuori dalle trombe tipo giocattro i lollipop di tutto nelle trombe in realtà lo raccontano però con attraverso le persone che lo fanno attraverso le persone che ci lavorano le storie delle persone che hanno vissuto storie anche drammatiche di migrazione abbastanza intensi e poi proprio a livello tecnico riescono a fare delle immagini da dentro gli strumenti fuori dagli strumenti dettagli degli strumenti che raccontano un mondo che è incredibile da raccontare bellissimo io sono stato rimasto emotivamente scosso addirittura mi sono rimasto emotivamente scosso e pianto? ho pianto veramente? cioè pianto non è che lo dirà quelle lacrime occhio lucido ma sì anche occhio piccolo sì a me non interessava particolarmente basta parliamo della categoria short animated ecco e anche qui ne ho visti tre ne ho visti due io ho visto letter to a pig letter to a pig 95 senses bellissimo e parkider letter to a pig sempre quella tematica che dicevo delle tecniche artiche tecniche di realizzazione molto interessanti letter to a pig per quanto non mi sia piaciuto il suo momento tanto l'ho trovato veramente geniale è un mix tra disegno e in realtà film non so come l'hanno realizzato tecnicamente e a livello tecnico bello a livello di storia 95 senses vuoi parlarne un attimo sì perché mi è piaciuto tantissimo di questo signore anziano 60-70 anni che racconta la sua vita attraverso i cinque sensi cominciando dal dal tatto penso non mi ricordo più esattamente l'ordine ma ogni racconto è uno dei cinque sensi e ogni racconto ha un tipo di animazione diverso ogni quindi ogni ogni senso ha un una diversa animazione per poi renderci conto che questo signore è in realtà condannato a morte e sta per sta per essere condannato a morte e poi ovviamente l'ultimo senso che racconta è il gusto perché sta mangiando il suo ultimo pasto è molto forte ma anche questo è in realtà molto semplice perché racconta non so se è storia vera sinceramente non mi ricordo se veniva fuori scritto ma non penso e lascia un po' il finale così in limbo dicendo che perché si chiama 95 sensi questo titolo perché lui dice che c'è questa leggenda che dice che noi abbiamo in realtà 100 sensi ne abbiamo scoperti ne usiamo solo 5 e quando moriamo si accendono gli altri 95 nella vita nella prossima vita che avremo e quindi lui è pronto di per sé per lasciarsi dietro i suoi 5 ed è pronto a scoprire il 95 anche questo qua molto molto toccante bellissime le animazioni di ogni senso c'è un'animazione completamente diversa poi alla fine ti lo dico non so quante persone ci hanno guardato questo cortometra mi sembrava finito il titolo di coda bello quello del cortometra era lunghissimo il titolo di coda era lunghissimo basta sono d'accordo appunto io l'ho visto e mi è piaciuto molto ma ho trovato delle perne interessanti in questi in questi corti Pachyderm è anche bello ma non necessariamente ne approfondiamo e parliamo dell'ultima categoria che è short film live action che è quindi cortometraggi di animazione di finzione chi vince chi vince purtroppo mi sa che vincerà The Wonderful Story of Harry Sugar però è l'unico di cui non vorrei parlare no scherzo no posso difenderlo vai difendilo un attimo poi è estremamente Wes Anderson però però un formato mezz'oretta che è l'unico che funziona funziona perfettamente a differenza dei suoi film perché non ti stufa parlano tantissimo a un certo punto ti dici cioè non è che devono descrivere ogni azione che fanno dire poi sono andato a fancuffo no e cioè fallo andare non è che deve dire ogni cosa no però è il suo stile e per mezz'ora venti minuti non mi ricordo quanto dura ci può stare trovo e te lo vende bene è una bella storia lui che cos'è mi ricordo più che vede le carte che impara poi ho cercato ma anche inizia l'abbiamo visto a Venezia io non l'ho visto a Venezia non ero ancora arrivato non l'ho visto a Venezia l'ho visto su ma due anni fa o l'anno scorso l'anno scorso e poi fa parte dei quattro cortometraggi che ha fatto per Netflix ma probabilmente penso vincerà io l'ho visto solo un altro di quelli nominati ma carino interessante fruibile vuoi dire parlare di altro? io di questa categoria assolutamente l'ho visti tutti The After lo potete trovare su Netflix è un film che mi ha fatto un po' emozionare no c'era qualcosa che stonava non ho ancora capito che cosa però basic forse un po' cheap perché non è assolutamente cheap love magari mancava un po' la pasta cinemella però no mi è piaciuto molto invincibile qual'era già? canadese francese del Quebec non si capisce niente suicidio sì e no lui che è un ragazzo in prigione minorile che ha rubato una macchina qualche sberla se la meri vuole la libertà non si sa che cosa ha fatto non so se io non l'ho capito che c'erano i sottotitoli una frase sicura no quindi non si capisce tutto lui in prigione poi a un certo punto scappa ruba una macchina dimore carino cioè alcune scende sono abbastanza belle soprattutto quando lui scappa sono abbastanza forti però non mi ha dato molto è che non riesco non riesco in cortometaggio il problema è che non riesco ad affizionarmi e empatizzare a meno che non sia un 95 senses che me lo dai proprio in modo specifico particolare ma faccio fatica a entrare nelle storie gli altri due uno Night of Fortune in realtà è una storia di due uomini che devono andare a salutare in queste camera ardenti si dice quelli degli ospedali dove ci sono i morti e non hanno il coraggio di aprire la barra e quindi prima uno poi l'altro si sostengono a vicenda è una storia molto interessante e Red White and Blue in realtà è una storia che non voglio spoilerare perché i cortometraggi andatevi a rivedere durante poco si trovano online è una storia che racconta la problematica dell'aborto in America e nel mondo in realtà che fatica potremmo parlare ancora per ore ma non facciamo come vedete sono tantissimi vi ricordiamo che questa tabella potete scaricarvela così vi guardate tutti i film entro sei ore che iniziano gli oscar se hai fatto una bella maratona per un paio riuscire a recuperarli se guardate Openheimer siete fatti tutti mi auguro che l'abbiate già guardato quando abbiamo fatto la puntata che vale la pena quindi tra pochissimo ci sarà la diretta assolutamente sulla pagina Instagram se non lo fate già seguiteci su Instagram così che poi vedete il countdown queste cose così e leggete tutte le recensioni di tutti questi film guardate le recensioni in 40 secondi e poi fatevi una vita perché no e quindi seguireci ascoltate il podcast mettete like mettete like se questo l'avete ascoltato andate a vederlo andate a vederlo su YouTube ovviamente Dateful devi trovarci dove siamo? a Lausanna e a Tadano alla prossima dai prossima puntata sarà normale 40 secondi ciao 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 Podcast Dateful